Lei mi chiede di parlare di Offert per Due Pano Forti, che è del 1989. Il titolo suona come tanti altri titoli di mie opere musicali, che sono omaggio a, piuttosto che dono. Mi è sempre piaciuto che la mia musica fosse dare una parte di me ad altri, ad altri in modo specifico oppure ad altri in senso assoluto. Offerte si divide in cinque parti, senza soluzione di continuità. Comincia con una parte narrativa, prosegue con una seconda parte che è un canone a quattro parti, a quattro voci. La terza parte è puramente onirica. Ricordo di aver sognato con la parte quasi nota per nota, come è oggi, a Vienna. Poi ho tardato a scriverla perché era molto difficile scriverla. Poi la quarta parte è, io la chiamo la guerra o la battaglia. sentivo che il mondo era sulle soglie di una guerra, che infatti venne nel 91, infame. e l'ultima parte è una piccola coda. Dopo aver scritto Offerte, anni dopo, ebbe l'occasione di ascoltare Daniele e Davide Trivella in una metà programma di un concerto per la Biennale di Venezia. eseguirono la trascrizione per due pianoforti dei cinque pezzi per l'orchestra opera XVI di Schoenberg. fu talmente impressionato da quell'esecuzione che fece a loro una cosa che non avevo mai fatto prima e che non avrei mai fatto dopo. Cioè andai da loro e oltre a rallegrarmi per la loro stupenda esecuzione di Schoenberg, che dissi che anch'io avevo scritto una cosa per due pianoforti se potevo osare fargliela conoscere e inviare. Così avvenne, non senti più nulla per un certo periodo, fino a che mi telefonarono o mi scrissero che il pezzo era pronto. Cioè l'avevano studiato. L'avevano studiato, sono andato a sentire la parola generale in casa loro a Bergamo, era stupenda. Feci un paio di correzioni sul mio test, non sulla loro esecuzione ma sul mio test, e quella è la versione che poi fu eseguita a München, a Monaco di Baviena. L'esecuzione di Monaco fu talmente spettacolosa che per ringraziamento schissi poi l'ultimo corale per il pianoforte a quattro mani. Penso forse assurdo, ma insomma era scritto pezzando loro come ringraziamento. Avrei potuto chiamarlo, anziché l'ultimo corale, ringraziamento come quello che prima si chiamava omaggio o dono o offerta, sempre nella linea della gratitudine e della devozione verso gli altri. La cosa stupefacente dell'esecuzione loro era non soltanto lo spirito dell'opera, era perfettamente accolto, ma anche seguito con la partitura non c'era una nota fuori. E questo per la musica contemporanea è un fenomeno di una rarità estrema, perché tutti sanno quanto si imbrogli nell'esecuzione della musica contemporanea. Che fosse eseguita per la prima volta a Monaco di Baviera mi aveva fatto un grande piacere. Perché Monaco è una delle capitali musicali d'Europa. La vita musicale di Monaco è tuttora vivissima. Era stata la città di Richard Strauss, una città anche molto sensibile poi ai rapporti con l'Italia. Non mi stupiva affatto che la prima esecuzione non avvenisse in Italia. La vita musicale italiana è talmente povera oramai, e anche allora quando questo pezzo fu eseguito a Monaco, che era ben normale che fosse eseguita in Germania e non in Italia, come molte altre opere mie da adesso. Sono state eseguite all'estero e mai in Italia. La sala era una piccola sala, Dirkstein, mi pare che si chiamasse, Dirkstein, un centro musicale multisala, come si direbbe oggi, di Monaco. C'era un pubblico credo intelligente, c'erano alcuni amici miei che erano venuti, c'erano anche parenti, c'era mio cugino con sua moglie, c'era Ketzebittich, c'era Natalia Dijos, e per certo fu molto bello, tutto è che non mi ricordo. Ricordo anche che si andò alla famosa birreria di Monaco, di Baviera, e lì il mio sconfinato amore per la Germania subì un fiero attacco, perché vedere 400, 500 tedeschi con boccali di birra ragazzi così, stupiditi davanti al loro bicchierone, veramente fu un'esperienza terribile, ma questo è un puro aneddoto che non ha nessun interesse. Forse per concludere, questa breve conversazione potrei dire qualche cosa dell'opera che ho scritto per ringraziamento a Daniele Davide Trivella, che è l'ultimo a corarla. Il corale è costituito dalla serie di 12 suoni che da 30 anni è la base di ogni mia invenzione musicale. La serie diventa sia la scala sia il modo. Sento oramai la musica non più come un Dori mi fa sola si do oppure do do diesis eccetera, ma come una serie di suoni che è sempre quella è come se la mia anima fosse in quella in quella disposizione dei 12 suoni. Attorno alla linea del corale che proprio per la forma corale ha una valenza quasi sacrale come nel corale di Bach o comunque nella forma corale della tradizione ho organizzato un canone a sei voci usando un principio che avevo già usato nelle varianti per quartetto ad archi. Il problema è che le sei voci più il corale fanno sette voci non si incontrano mai né in ottava né all'unissimo. ed essendo naturalmente atonale a tutto questo le voci le parti sembrano mescolarsi in un sgricciolio in un calpizio che non ha senso forse dovrebbe essere eseguita a due pianoforti o forse dovrebbe essere eseguita per un osso ombre di vari strumenti. conto però secondo me soprattutto il principio spirituale di quest'opera intanto di nuovo un omaggio al più grande di tutti i musicisti della storia d'Europa che è Johann Sebastian Bach e poi la riproposizione della forma del canone non sono l'unico peraltro faccio il caso di Aldo Clementi che scrive canoni da oramai 30-40 anni e finalmente una come posso dire una normalizzazione dell'orizzontale cioè delle delle parti le parti si potrebbero accantare una per una come fossero parte di una fuga di Bach di una cosa naturalmente la loro sovrapposizione crea delle dissonanze e quindi una complicazione una complessità armonica che sfidano che sfidano l'intendimento insomma perché ripeto rimane il principio intellettuale dell'opera la serie viene ripetuta 12 volte il tempo in 5 quarti il principio di suddivisione è da 2 si fa 1 l'1 può diventare ancora 2 crome ogni crome può diventare 2 semicrome per cui il materale diventa sempre più sempre più denso fino al centro dell'opera e poi si ritorna progressivamente alla alla forma del tema originario grazie Grazie.